Mamma mia, here I go again, my my, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? My my, just how much I've missed you? I've been cheated by you since I don't know where So I'm... Buongiorno, mi associo anch'io al ringraziamento per la sua esistenza Anche come coetanea sono contenta della vitalità E' un'alleluia, non è una cosa E' un'alleluia, è un'alleluia di questa conference Io avrei moltissime domande Ma visto mi limito a quella di... Una curiosità me la vorrei togliere, me la tolgo subito Che riguarda una passione che forse abbiamo ancora in comune E che lei ha espresso personalmente a Paul McCartney Nel 91 se non sbaglio I suoi ricordi dello She's Stadium, eccetera Quindi se in qualche modo le va di dare un piccolo ricordo Un segno di che cosa sono stati i Beatles nella sua vita E l'altra cosa invece, visto che si è parlato molto di femminile E cultura femminile Mi chiedevo se anche nel film su Julie Powell In cui impara queste 500 ricette di cucina Se, ecco, qua quanto mette Ho messo, ho avuto spazio per inserire Il discorso della cucina come, non come destino di emarginazione Ma anzi orgoglio di cucinare, di trasformare il crudo del cotto Cioè il naturale nella cultura Ok, grazie 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 per questo Grazie È una cuoca degli anni 60 molto famosa in America Estremamente famosa E lei aveva appreso l'arte della cucina La scuola del Cordon Bleu E io ricordo tutto questo molto bene Perché era una ragazza La madre mi diceva che se non si riesce a cucinarlo in 45 minuti Non è assolutamente una cena Noi avevamo tutto bello concelato Non facevamo altro che togliere l'alluminor foil Ed era tutto pronto Una cosa terribile Non conoscevamo altro Il cibo era veramente terribile Julia Child, questa po' straordinaria È invece tornata in America Dopo aver appreso l'arte culinaria E ha introdotto attraverso la televisione L'idea del mangiare sano Di usare buoni ingredienti Della buona cucina Ed è stata questa la data di inizio Della trasformazione del nostro modo di mangiare Adesso noi siamo tutti pazzi per il buon cibo Ma non lo eravamo allora Quindi il film si tratta proprio di una donna giovane Julie Powell Ed è questo un modo per raccontare la sua vita Ma anche gli effetti che l'arte culinaria ha avuto Scusate, dice l'attrice A volte mi distrago Poi lei mi ha domandato dei Beatles 1965 Parla proprio dei miei tempi Avevo 15 anni allora E mia madre mi ha concesso di andare con il mio ragazzo Fino a New York Dove sono arrivati in elicottero I famosi Beatles E hanno dato quel fantastico concerto Nello stadio di baseball Nessuno lo aveva mai fatto prima Un evento unico E io ho portato un enorme cartello con scritto Ti amo Paul E credo che lui lo abbia visto francamente Perché quando gli è stato dato il premio Grammy Per la carriera Mi ha chiesto che fossi io a consegnarglielo E forse in realtà non l'avevo mai incontrato Questo mi ha molto molto reso felice Io non avevo avuto modo di conoscere tutti i Beatles Ma sono sempre stata una grande fan E mi ricordo la mia giovinezza È finito Quindi prego l'ultima domanda Buongiorno Mrs. Strip Lei è da 30 anni ai vertici del cinema mondiale Ha avuto una carriera costellata di successi Questo volevo chiederle Il successo le ha mai fatto paura Ha mai avuto crisi di panico Da successo E se sì come le ha affrontate No, non ho mai avuto paura del successo Ma io sono sempre stata sicura Che era finito Che non avrei avuto più successo Ricordo benissimo di aver detto A mio marito Dobbiamo capire bene Dov'è che dobbiamo andare a pensare Sto pensando molto prima di avere 40 anni Quindi già molti anni fa Ogni volta dico Ok, questo è l'ultimo film Nessuno me ne darà altri Però evidentemente Non bisogna mai dire mai Sono ancora qui E sono così fortunata So far so good Però adesso va tutto benissimo E con questa considerazione Un applauso per fare coraggio a Merle Strait Thank you very much It's a privilege On your side Thank you very much Great to see you again Mamma mia Here I go again My my How can I resist you Mamma mia Does it show again My my Just how much I missed you I've been cheated by you Since I don't know where Not know if I I don't know where It's with boys I trauma I Frank eld I believe